Dottor Cartabellotta, qual è il ruolo della Sicilia all'interno del biocluster del Mediterraneo e dell'Expo di Milano? Il ruolo di coordinamento, questo cluster è un po' 3i, lo definiamo, i di identità di Sicilia, i di integrazione mediterranea, i di innovazione. Sicilia avrà la possibilità non solo di portare le sue aziende, sono circa 700 aziende, avrà la possibilità quindi di far assaggiare il suo cibo a tutti quelli che saranno visitatori, ma avrà anche la possibilità di far sì che questa esperienza riesca a trasformarsi da Expo in Esport. Questa è la cosa più importante per il futuro della Sicilia e delle aziende. Quali sono state le difficoltà reali a realizzarlo? Difficoltà legate innanzitutto al contesto generale dell'attività di Expo e dei ritardi che ha avuto, mettere insieme tutta l'eccellenza e la qualità di Sicilia e raccordarle con la realtà del Mediterraneo. Alla fine abbiamo scoperto che sono più le cose che uniscono che quelle che dividono. Grazie